Eccoci Primo Siter Palace, appuntamento al mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite sindaco di Padova, abbiamo già iniziato a parlare di temi importanti per quanto riguarda la città, l'ultimo è stato ovviamente quello della fiera. Allora, rapidamente la Roma Marlene inizieranno i lavori, va avanti tutto per il bene, la Roma Marlene ricordiamo il grosso centro, il Brico, chiamiamolo così, che dovrebbe nascere, anzi nascerà sicuramente nell'ex foro Boario, Corso Australia, com'è la situazione sindaco? È stato autorizzato assolutamente densa dal Comune, non sono un problema, penso inizieranno, a fine dell'anno prossimo i lavori, inizieranno i lavori, la sua tutta la parte burocratica, amministrativa. Beh, è privato, quindi nel giro di un anno, quando le cose sono private fanno rapidamente farsi. Sì, decisamente sì. Quindi un paio d'anni vedrà che lì è tutto pronto, però lì prossimo tutto per il bene. Io penso che nel 2021? E' 20? No, si iniziano il 2020? Fine del prossimo anno, il 2019. Iniziano i lavori, un anno, 2021 ho sbagliato io, no, 2020 scusi, fine del prossimo anno, 2021 è pronto, non sono molto luce. Sì, matematicamente magari può succedere qualche, quando lei sbaglia sono anche felice sotto questo punto di vista, mi prendo qualche piccola rivista, se così si può. Piazzale Boschetti, è un articolo, ho sentito un articolo nel giornale, la settimana scorsa, dove tra l'altro, ne lo farò vedere, c'è anche il mio nome, perché era un pallino mio quando veniva il suo predecessore, dicevo chissà che pensare Boschetti venga fatta così. Allora c'era scritto un articolo, anche per la felicità di Giorgio Borile, il termine non per darmi importanza, però mi ha fatto piacere perché è un posto che ci tengo moltissimo. Lì è nata una discussione dove l'avvocato Riccardo ha scritto degli articoli che deve essere tolto le belle arti all'interno di quei due obrobri, e io sono d'accordo con lui, però non si può, insomma il solito casino all'italiano, uso questo termine. Però lì davvero, quando iniziano, i soldi sono arrivati, quello è il bando delle periferie, cosa succederà lì? E in quanto tempo vedremo lì? Lì l'Iron davvero insisterò per capire, perché vedere quella cosa lì davvero ci sto di un male. Io penso che andremo in gara a brevissimo, per cui penso che i lavori iniziano sicuramente il prossimo anno, un paio d'anni ulteriori, è terminato il tutto, per poi una cosa bella, è stato fatto l'amministrazione precedente, abbiamo deciso anche noi di fare lo stesso progetto, è un bel progetto, in più stiamo cercando di risolvere il problema delle due palazzine Liberty, se la sovrintendenza non può togliere, prendiamo atto e stiamo cercando di trovare iniziative private per far sì di valorizzare queste due palazzine. Arturo Renzoni sta seguendo molto bene la faccenda, si sta dedicando tanto tempo, io mi auguro e spero che venga risolto a breve, mi auguro e spero perché sarebbe veramente antipatico e privo di logica estetica avere un bellissimo parco con due obrobri del genere. Non so se la energia può mettere quei due obrobri di piazzale boschi, non è il caso. Ogni sera che vado a casa e vedo queste due abitazioni, ho fatto coprire io, pensate, sono riuscito a farle coprire. Sì, però è bello perché... Ma adesso facciamo pulizia della trapparenza, viene fatto pulizia da per cui non altro qualcosa viene migliorato, posto che la pulizia migliori l'edificio, piuttosto che vedere quelle due palazzine e poi va bene qualsiasi roba. Eccone qui, eccone qui. Però io sono molto ottimista, confido molto, stanno lavorando in tecnici del comune, Arturo Renzoni, segretario, stanno lavorando tutti su questa cosa qua, perché va risolta. Quando si vuole risolvere una cosa, si risolve. Io sono convinto che alla fine risolveremo questa... Anche ricordiamo, siamo in pieno centro, siamo vicini agli Scorvegni, viene fuori un piazzale fantastico, un buon... no piazzale, credo scusa, un parco bellissimo, agganciato al parco vicino agli Scorvegni, è un posto magnifico. Anche sotto rispetto alla variazione, siamo in pieno centro. Se abbiamo anche la fortuna, e la fortuna si fa solo insistendo nelle cose, di sistemare anche i PP1, l'ex IFIP, sono le due aree contigue, che sono due cose che mi stanno veramente portando via molto tempo, perché voglio che vengano in qualche maniera risolte, perché non possiamo avere in centro Padova, siamo in centro Padova, siamo in centro Padova, con due terreni enormi, con questi problemi. Vanno risolti, in qualche maniera vanno risolti. Cerchiamo con l'aiuto dei privati, sono privati, non sono pubblici, sono tutte aree private, in cui la crisi immobiliare ha creato dei problemi, grossissimi problemi. Ma lì, le faccio una domanda, mi sembra che lei era una sua idea appena insediato al sindaco, disse, nella zona del PP1 mi piacerebbe fare un parcheggio, chiederò il permesso al... ma i proprietari di quel terreno non danno un permesso come il demanio lo ha dato per la pradina. No, la società che... purtroppo erano sei le società, di cui cinque sono fallite, è rimasta una, questa una sta cercando di mettere in bonus il complesso PP1, per cui c'è tribunale, curruttura, famiglientale, tantissime cose. Io nella mia ingegnità ho detto faccio un parcheggio, pensavo fosse facile, è passato un anno, non so, anzi, un anno e mezzo, non sono riuscito a fare niente. E non si può fare nulla lì, il sindaco? No, finché la società non va in bonus e il tribunale autorizza la sistemazione non si può fare niente. Io spero che venga fatto a breve. Ah beh, sicuramente. Anche questa, devo dire che il segretario generale e tutti i medici si stanno impegnando moltissimo per risolvere il problema. Bene, vabbè, staremo a vedere anche questo. Io non vedo l'ora di vedere Piazzale Boschetti come l'ho visto nei disegni. Anch'io, anche perché ne esce una cosa, veramente un parco bellissimo. No, sicuramente, sì, e verrà sicuramente anche i giardini, i vecchi giardini padovani verranno apprezzati ancora di più. Senta, un altro tema scontante, il tram. Il tram, ne ho letto tutti i colori, che quello che è esistente non c'è più, non si costruisce più, i pezzi di ricambio non si trovano più, quindi bisogna fare qualcos'altro, prendiamo in affitto quello, non mi ricordo, di Latina o di un'altra città, non ricordo di dove, insomma. Intanto diciamo che Siltreve l'ha fatto, sicuramente. Siltreve sarebbe il famoso tram, la seconda linea, questo verrà fatto. Abbiamo il finanziamento, abbiamo tutto. L'azienda non ha comunicato formamente che non ha intenzione di fare, stiamo discutendo, stiamo discutendo con Parigi, con Venezia, con tutti gli altri, perché non è solo Padova che ha fatto questa scelta a suo tempo, altre città l'ha fatto. Per cui stiamo trovando le logiche per far sì di fare massa critica e convincere l'azienda, convincere, più che convincere, verificare se l'azienda ha voglia di continuare con l'impegno o no. La situazione, devo dire, non è ancora chiara, nel senso che l'azienda non ha detto nessuno, no? Non è che noi, devo fare chiarezza, non è che noi siamo appassionati di questo mezzo. Ma, primo, è iniziata una fase, ancora con il sindaco precedente, Giustina D'Esta, Flavio Zanonato l'ha portata avanti, la setta fatta è stata questa. È ovvio che bisogna continuare su questa strada, nel senso che il futuro per far sì che i costi diminuiscono è fare altre due linee di questo tipo, ed inforna una piccola metropolitana in superficie. abbiamo fatto in garage, abbiamo fatto nel suo tempo tutto quanto, è un modo per fare, ottimizzare i costi. Uno dice, beh, perché non fate l'autobus elettrico? Perché la capacità oraria di un autobus elettrico è molto inferiore rispetto al tram. Punto, non è che siamo fissati, perché l'abbiamo detto in campagna elettorale, di fare il tram e qualche altro elettor bus elettrico. Non è questo il problema. Magari non siamo così ottusi da dire, avevamo promesso questo e lo facciamo. La testimonianza dell'ospedale ha detto, facciamo una cosa, abbiamo capito che quella cosa non poteva andare, c'erano difficoltà, abbiamo scelto un'altra strada. Noi lavoriamo nell'interesse della città. Di conseguenza verifichiamo se è fattibile continuare con questo. Chiaramente se non fosse fattibile, troviamo un'altra soluzione, però la logica è risolvere il traffico. Abbiamo una situazione di traffico a Padova che è molto importante. Abbiamo cose dappertutto, bisogna risolvere in qualche maniera. Il tram è una delle soluzioni. Oggi l'autobus elettrico è 18 metri, non è 24 metri. Il codice stradale non permette di fare i 24 metri. Noi siamo a 18 metri. Altre città, tipo Parigi, hanno autorizzato. Noi non possiamo, però anche Parigi hanno autorizzato su sede protetta. Sede protetta vuol dire che non può passare nessuno. Padova è una città con strade con viabilità molto stretta. Se possiamo fare un tram che va a Chiedonova, un tram elettrico in cui portiamo via una corsia, non è facile, è molto difficile. Per cui bisogna ragionare in questa fase. Io sono convinto che stiamo seguendo la strada giusta. Se verifichiamo che la strada non è giusta, cambiamo. Non siamo ottusi. Non ci fissiamo sulle logiche. Vogliamo fare il bene di Padova. Pensiamo che sia questo. Non siamo capaci. Cambiamo. Però Sir 2 la facciamo. Sir 3. Poi Lorocio aveva raccettato un'idea, non so se si potrà fare, della metropolitana sulle rotaie dei treni, insomma collegare i paesi limiti ai paesi vicini. Se abbia una bella idea anche questa qui, insomma se fosse realizzabile. No, un'altra cosa. Ha proposto, ed è in fase di verifica e costruzione, di utilizzare i tram che partono dalla stazione centrale e che vanno verso la zona industriale. Anche Buccia Italia sarebbe d'accordo, in linea teorica, con delle... siccome c'è un bando in cui lo Stato potrebbe aiutare a fare questo, portare ovviamente con le ferrovie dello Stato, portare le persone in zona industriale, quando portate in zona industriale, attraverso bus, autobus, portare a destinazione. Potrebbe essere una cosa interessante. Ah beh, certo. L'unica cosa che mi genera per la Comunità Italia è che abbiamo ricevuto diversi lamentelle sindaco per quanto riguarda i tabelloni luminosi degli orari dei bus, di Bus Italia, dove ci sono ritardi dal tabellone a quando arriva l'autobus di 10 minuti, 15 minuti, specialmente in zona stazione. L'abbiamo fatto presente a chi di competenza, mi auguro che questo non succeda perché ci sono degli orari davvero... Non tutti gli autobus hanno il GPS, sono gli autobus vecchi, di conseguenza non sono monitorabili. Sì, ho capito, però abbiamo ricevuto lamentelle che... Hanno ragione. Su questo, io le la riporto papale, papale, soprattutto, le dico anche gli studenti, quindi sono molto arrabbiato. Devo dire, anche se siamo soci al 45% di Bus Italia, insomma, dobbiamo e possiamo migliorare il servizio, questo è sicuro. Ecco, va bene, allora abbiamo sentito anche per quanto riguarda il tram che sicuramente andrà avanti. Adesso parliamo di un tema a lei caro, perché ne è il tramite tolte sindaco anche la delega, è della sicurezza. In questi giorni, Piazza De Gasperi, ovviamente i residenti, hanno messo un vigilante, la cosa ha detta loro, ha sceamato intervistare, hanno detto che sono felici perché non hanno più chi passa con la droga, i malviventi e tant'altro, insomma, nelle ore notturne, addirittura vogliono stenderlo anche nell'orario di urno. Allora, qui le cose, il prefetto è d'accordo, lei un attimino, Cicchia, ecco, mi racconti un attimino com'è la situazione. Stamattina abbiamo fatto ringrazio al prefetto che ha coordinato una riunione in cui c'è avuta la sicurezza, il sindaco, scusa, la polizia locale, c'era anche il comandante di Carabiniero, l'estero di Polaccia, c'era il comandante della finanza, c'era ovviamente il questore. Tutti i maggiori esponenti sono? Sì, in cui stiamo cercando di… abbiamo dei problemi, lo dico da tanto, non mi sento nemmeno in imbarazzo. abbiamo un problema con i spacciatori, abbiamo un certo numero di spacciatori, siamo invasi dallo spaccio. Lo dico con tristezza perché significa che abbiamo tanti consumatori, che è la cosa… perché avere tanti spacciatori vuol dire che abbiamo tanti consumatori, questo perché… poi questo aumenta anche il razzismo, perché vedo che sono tutti ragazzi di colore che fanno i spacciatori in bicicletta e crea disagio, crea paura, crea problemi, specialmente agli anziani, noi assieme ai Carabinieri, Polizia, Guardi di Finanza, facciamo di tutto per impedire questo. Ma abbiamo grosse difficoltà, abbiamo grosse difficoltà perché prima non tengono mai il prodotto con sé, secondo, non nascondono, per cui se qualche volta li pescono anche con un prodotto, il giorno dopo sono fuori. Per cui, questo non è accusa assolutamente a magistratura, ma è la logica delle regole che non c'è la sicurezza della pena. Beh, se questo governo vuole dare la certezza delle pene, sarebbe una regola che succederà. Siamo qua che aspettiamo, perché questa è la base importante. Ovviamente… Nel frattempo? Nel frattempo, no, quando vengono arrestati c'è un piccolo problema, mancano le carceri, le carceri sono piene per cui voglio vedere come fanno a risolvere questo piccolo dettaglio. Però io faccio il tipo perché faccio queste cose, ben venga, la sicurezza dei cittadini è una cosa per me importante, punto. C'è stata questa iniziativa in Piazza De Gasperi, in cui stiamo anche noi investendo molto tempo e cercando di convincere qualcuno che apra, facciamo pagare tasse per un anno, cerchiamo di incentivare al massimo. Questi hanno fatto un'iniziativa privata. Non sono entusiasta di queste cose perché io penso che la sicurezza vada data a tutti, non chi può pagare e chi non può pagare. Però sono liberi di farlo, nessuno contesta niente. E' un po'... Però se non ce l'hanno, sindaco mi scusi, io capisco il ragionamento suo, non fa la piega. Però se il comune non ha la possibilità di mettere la polizia uguale, lo stato uguale... No, 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 non facciamo... Cioè, le forze dell'ordine stanno facendo il massimo, il massimo di quello che possono fare. Massimo. Sono le normative che impediscono certe cose. Anche per un poliziotto. Pensate, un poliziotto, prende uno spacciatore, magari rischia anche un po', e giorno dopo è fuori. Allora, facciamo chiarezza su queste cose. Le normative oggi non tutelano chi fa servizi di sorveglianza, tipo la polizia, carabinieri, pieni, i visi di finanza e i visi di no. Mi scusi, mi scusi se la intero un po', però il concetto è questo. No, questi hanno scelto di fare qualcosa di privato. Benissimo, la faccia non c'è. E' una bella cosa, i privati si mettono la garanzia loro pagando di tasca loro senza andare a interagire, perché lei può dirmi giustamente non possiamo mettere un vigile o un poliziotto in tutti i quartieri. E ci sta come ragionamento. Faccio una premessa, che non vorrei che fosse fatto confusione. Questi, la vigilanza privata impedisce solo, non impedisce gli spacciatori, che sia chiaro, impedisce che qualcuno vada a sporcare, vada a fare la pipì sotto il portico. Ha detto che c'erano meno che spacciatori, ci hanno detto loro. Tranquilli, tranquilli che il mondo è un'altra cosa. Beh, lì nella zona ci ha detto che ci sono anche meno spacciatori. Dopo, io non ho vissuto la notte, ha detto così, che c'è meno movimento. Ma magari può essere da deterrente. La sicurezza delle persone è una cosa. Lo farei anch'io, se cambio casacca, probabilmente la farei anch'io. Non sono contento, perché mi dispiace che chi ha possibilità a fare questo, chi non ha possibilità, deve subire. Per cui l'intenzione, la volontà delle forze dell'ordine, del comune, è di far sì di aumentare la sicurezza. Abbiamo anche fatto un discorso stamattina, vediamo un attimo di fare qualcosa per aumentare la sicurezza ulteriore in città. È un esempio. Abbiamo fatto i giardini e i travers, abbiamo fatto, e adesso tra poco ripartiamo, abbiamo fatto manifestazioni culturali, danza, aperiti bar. Adesso è il primo del mese, ricominciamo ancora. È chiaro che quando facciamo queste cose, noi spostiamo gli spacciatori, o chi ha rubato le biciclette, li spostiamo dai giardini, li spostiamo e il piove. Prego, vuol dire solo spostare le persone, perché rimangono. È triste da dire, ma è così? No, però lo faccio. Qualcuno deve, anziché fare politiche, anziché fare immagine, qualcuno deve risolvere il problema, a livello nazionale, perché non è il problema di Padova, è che sia chiaro, il problema di Verone, Vicenza, Treviso. Di tutto il mondo, guardi, di tutto il mondo. Io parlo di Vittagini. Però il concetto è giusto, quello che dice lei, dice, praticamente si ne lo dice. Se io li tolgo da Piazza Gaspi, vanno... E con questo lo sto dicendo, quello che faccio? Però è molto meglio, vista la situazione nazionale e dello Stato che non dà garanzia di pena, certezza di pena a chi ha la droga, e piuttosto che siano in città, è meglio che siano in campagna, voglio dirle. Ho capito che non va bene in nessuno dei due luoghi. Ho capito, è quello che stiamo facendo. E' meglio il male minore, insomma, no? Giardini dell'Arena, stavano facendo questa operazione. Era uno dei luoghi più belli di Padova, l'hai riuscito a sistemarlo un po' insomma. È ancora un luogo bellissimo, sono giardini bellissimi, un palco bellissimo. Adesso, prima, facciamo il mercatino di Natale, con organizzazioni volontarie, cerchiamo di attivare, bisogna di appropriarsi del territorio, bisogna fare manifestazioni, bisogna fare concerti, bisogna fare di tutto. Chiaramente queste cose lo facciamo, primo, perché abbiamo tantissime associazioni bravissime. Secondo, ci costa, ma è un investimento che va doverosamente fatto per garantire il più possibile la sicurezza. Noi abbiamo, come dati, il 4% in meno di azioni delittuose a Padova, 9% in meno di province. Ma se io dico ai miei concittadini, guarda che sono calati gli effetti negati, si mettono a sorrire e dicono, non è vero, perché la percezione è diversa e non posso dargli torto, perché la percezione è quella, non posso dargli torto. Per cui vuol dire aumentare ancora più gli sforzi, inventarsi delle cose, attivare la popolazione, perché facciamo tutti in rete, facciamo qualcosa assieme. Abbiamo delle idee, assieme alla forza dell'ordine, al prefetto, le stiamo sviluppando. No, io credo che la percezione è giusta, quello che dice lei. È vero, è vero. Credo che sia anche un fattore ovviamente difficile da eliminare se lo Stato non dà certezze. Io, guardi, faccio un paragone banale, però tanto, visto che abbiamo più o meno la stessa età, anzi senza più o meno, la città di Padova, una volta, io ricordo quando ero bambino, che la prostituzione era fino in centro, andavano in piazze di surrezione, andavano proprio fino in centro. Adesso ci sono ancora, cioè la prostituzione c'è, come c'è, però non è più in centro se è diluita in tanti altri luoghi della città. È ovvio che non vederla in centro è già un bel segnale. Dunque, rapportandola alla droga, è chiaro che non dovrebbe esserci nemmeno dall'altra parte, però tra i due mali... Ho capito, è chiaro che chi vive in centro è contento, chi vive in periferia non è più contento. Noi, Padova, Padova, per me Padova non è il centro storico, Padova è tutta, vuol dire, Cella, Quizza, tutto quanto è Padova. Però un po' alla volta andrà proprio fuori, fuori, insomma. E se no, ecco, ecco, una medicina bisognerà pur trovarla per questa... Cambiamo le leggi. Eh, cambiamo le leggi, però... Penso che calcare tanto cambiamo le leggi. È difficile anche quello, perché cambiare le leggi, la certezza e la pena, lei sta vivendo la politica, la vive adesso quotidianamente, dunque capisce che lei già c'è una difficoltà per approvare determinate leggi dalle vitalizie, per dire una banalità e a tanti altri, però, insomma, la sicurezza in modo... La sicurezza è una cosa importante, a me tocca personalmente, come responsabile, non solo la sicurezza, ma come sindaco, e io farò di tutto, in accordo con le forze dell'ordine, per far sì che sia l'attenzione il più alta possibile. Non tutti sono contenti, qualcuno si lamenta, anzi, più di qualcuno. Noi faremo il massimo, perché è giusto che noi ci impegniamo al massimo. Ma guardi, lei è stato accusato anche, da un punto di vista personale, senza delle spaccate che succedevano in una città, quelle succedono da... Ha capito, anche quelle sono... Il sindaco è responsabile un po' di tutte le cose? È responsabile, io sono responsabile di tutto quanto, sono responsabile... E la salute del cittadino? Ma sono anche responsabile della sicurezza, sono responsabile di tutto, io non mi tolgo la responsabilità, nessuno mi è obbligato a fare il sindaco, chiaro? Lo scelto io, lo faccio, lo faccio volentieri, lo voglio fare l'eroe, sono contentissimo di questa cosa che sto facendo, io amo la mia città, anche se è una cosa che, tanto quando dico, ho un interesse di fare qualcosa nella mia città, il mio impegno è massimo, non ho detto che risolvo tutto, però il mio impegno è massimo. mi sono dimenticato prima, torno indietro un attimino, perché nel ragionamento mi sono dimenticato, è una cosa che le ho chiesto addirittura, le continuerò a richiedere quando viene a trovarmi, nella prima volta che viene l'ospite qui a Primo Sinterpare da sindaco, le chiesi perché non facciamo il terzo anello da tangenziale, perché anche la tangenziale oramai è non intesata, ancora di più in determinati orari è bloccata. Lei sta parlando del Gra, del grande accordo anulare, che ha fatto il suo tempo ancora da... Io ne l'ho chiesa la prima volta, lei ovviamente... Secondo me è qualcosa di interessante, verificare, moltissimi sindaci si sono d'accordo, noi come grande, come EPA, vuol dire tutti i comuni con termini, stiamo ragionando, è una cosa che sicuramente ha un interesse. Sì perché ormai... C'è una parte dei miei che dice se più aumentiamo la strada più aumentiamo il traffico, non sono dello stesso avviso, noi stiamo soffocando del traffico. Ma se ne faccio una domanda così... C'è chi... Però ognuno, questa amministrazione ha tante sensibilità, tutti quanti dicevano ah durate sei mesi andate a casa, perché ho tante sensibilità, vuol dire tanti aspetti politici all'interno dell'amministrazione, però garantisco che tutta questa varietà di aspetti sta ottenendo dei grossi risultati, almeno il mio modo di vedere, con molta presunzione, sta avendo dei grossi risultati per la città, perché ci sono tutte queste facettature che vengono messe a regime della Giunta, dal Consiglio Comunale. Vengono ragionate. Io sono contento di questa città. Questa sicuramente è una bella cosa, perché vuol dire tra... Non litighiamo, è cosa fondamentale, non litigare. Ma qualche volta vi racconta qualche bugia lei? No, non ho mai litigato una volta con nessuno. No, litigato no, lei ha detto non sarebbe mai, qualche volta sarebbe anche lei. Due volte solo, ma sono state due occasioni in particolare, e non in Giunta. E quindi, ecco, perché succede che magari si può... Nel ragionamento che facevamo delle strade affollate, mi chiedevo, chiudono molti cappanoni nelle zone industriali, perché c'è meno lavoro, oppure le aziende, le medie, le piccole aziende si trasferiscono all'estero. C'è meno lavoro, c'è più crisi, però aumenta il traffico, non riesco mai a capire com'è questa situazione. Diminuiscono le aziende, aumenta il traffico. Io mi chiedo, la zona industriale, quando certi imprenditori hanno deciso di portare la loro azienda all'estero, quindi di chiudere quella in sede, in loco attuale, quindi nella zona industriale di Pado, e nonostante tutto, il traffico aumenta sempre di più. Non sono mai riuscito a capire nessun di questa cosa qui, un giorno qualcuno riuscirà a spiegarmelo, a farmela capire. È difficile capire, ma... Però succede questo, è questo che succede. Bisogna sicuramente investire nella mobilità pubblica, cambiare logica di spostamenti, usare più bicicletta, un po' alla volta abbiamo a cambiare. Abbiamo un discorso diverso, dico chiudono le aziende e il traffico aumenta. Ma hanno detto che non sono chiuse, sono riconvertite. Oppure riconvertite, come meglio, però tanto sono andate davvero all'estero. Ma hanno mantenuto anche le posizioni italiane, è molto difficile. È molto complesso, un giorno qualcuno riuscirà a spiegarmelo bene. Senta, qui concludiamo, però apriamo una parentesi, ormai lì la storia è chiusa, è l'ospedale di Pado. Ha concluso proprio la settimana scorsa con mia grande gioia. Con sua grande gioia. E la gioia anche del Presidente Zaglia. Faccio questa domanda, esatto, perché pediatria deve ancora essere abbattuto il vecchio palazzo per poter far costruire la nuova pediatria. E l'ospedale? Mi racconti un attimino quando inizieranno i Padovani a vederlo nascere. Dai, mettiamolo così. Cominciamo con pediatria. No, cominciamo con dire che il Comune ha ceduto alla Regione gratis 516 mila metri coltati come era l'intenzione. E per cui... Però lei non aveva detto che vada a dargli gratis inizialmente? Quando? Tempo fa ha detto non voglio dargli gratis, voglio un cambio. No, no, gratis nel senso economico. Chiaramente la Regione è un cambio a qualcos'altro. Gratis nel senso non abbiamo percepito soldi in compenso la Regione da Comune di Padova quando saranno demolite tutte le aree all'interno di Giustiniani dalla proprietà delle aree aver fatto il parco del Mura e via dicendo. Perfetto. Gratis nel senso. Ah, meglio che ridi. Non abbiamo dato non ci hanno dato soldi. Per me è stato un motivo veramente importante. Sono molto soddisfatto. Lasciamola pure quell'immagine che è dalla legge. Perché da adesso in poi il problema è della Regione. Il problema nel senso costruzione sia progetto sia costruzione su tutti gli aspetti. Quando partirà? Partirà da quello che ha detto la Regione del direttore Flore. Dovremo metà del 2020 dovremo andare in gara col progetto. Dovremo andare in gara col progetto Padova Est. Per quanto riguarda Padova e via Giustiniani io penso che nel prossimo anno partano con pediatria. Dopo partono con la parte girecologia l'ospedale e la mamma dietro la pediatria dopo partiranno e via dicendo. I tempi sono lunghi. Loro hanno detto 5-6 anni via Giustiniani 10 anni Pado Est. Pediatria era una cosa che era già fatta dovrebbe già essere operativa non dico nella pediatria però la costruzione doveva essere già abbattuto il reparto di preomologia e invece devono connessi i lavori questa è la domanda. questo non so rispondere non è il comune non è parte attiva in queste cose si è chiaro noi ho detto andiamo è stato risolto un problema diamo il massimo della collaborazione alla regione al sanità veneta al sanità locale perché è nostro dovere dare il massimo alla collaborazione però non siamo attivi in questo è solo la regione forse informati almeno il perché non nasce pediatria penso che abbia avuto difficoltà tecniche non so rispondere in questo senso però so che il prossimo anno partono sicuramente non c'è ombri di dubbio per cui è stato motivo di soddisfazione chiudere questa vicenda e non voglio essere di è stato fatto un lungo lavoro non voglio essere lesione in confronto di chi ha fatto nel passato altre scelte io dico solo è stata fatta questa operazione alla fine in campagna elettorale ho detto lo facciavamo in centro perché per noi era giusto questo in centro poi ho visto che non era fattibile abbiamo trovato soluzioni con il presidente Zaya che ringrazio perché è stato corretto leale e ha ragionato per il Veneto per Padova per il Veneto perché ha detto è un problema che va risolto a tutti i costi Padova si troverà con due ospedali 900 e 900 trappeggi ho letto il presidente della commissione Boron che si inventa un po' di cose intanto è simpaticissimo si inventa le cose dice non sono questi non sono 900 sono questi sono gli altri non è vero lui devo dire ha remato contro finora non ha mai dato un aiuto ha sempre anche se è padovano perché fa politica io non faccio politica faccio cose concrete per la città la cosa che mi preoccupa ha detto vigilo io sulla sanità padovana questo mi preoccupa se ha vigilato come ha collaborato fino ad adesso con tutta la simpatia con Boron però spero che non vigili sia tranquillo a parte che non faccia niente per inciso dovevo togmi un sassolino dalla scarda me lo sono tolto si è tolto un sassolone un sassolone sta tranquillo zitto perché non è certamente merito suo che ha fatto questo anzi il presidente Zai è stato l'artefice fondamentale di questa cosa la siamo stare non sono mai per le vendette mi stavo scaldando un pochino Boron l'aveva fatto tutta la simpatia a Boron perché dopo alla fine sono affezionato intanto l'ho avuto anche in interporto nel gioco politico a me non piacciono i giochi politici non mi piace io sono per la concretezza di fare l'over non deve dire cose che non sono vere o non gli hanno dato l'accordo di programma forse Zai non ha dato l'accordo di programma che ha scritto 900 900 che lo Iov torna a Padova che il palco delle mure ci dà il terreno a noi non gli ha dato questo forse non lo so forse se ci sono indicati o non si ricorda più comincia ad avanzare l'età non so non mi interessa scherzo scherzo Boron stai tranquillo va bene possiamo andare in pubblicità noi andiamo in pubblicità poi pareremo dello stadio Ghana o tra poco un po' Grazie a tutti.